benvenuti siamo in via toscanini a monte cavolo frazione di quattro castella io sono alessandro titolare dell'agenzia tecnocasa di monte cavolo del medesimo comune oggi vi presento una bellissima abbinata immersa nel verde con un bellissimo panorama seguitemi eccoci arrivati all'interno dell'abitazione la villa si divide su tre livelli abbiamo la zona giorno con due ampi saloni il bagno e la cucina abitabile la zona notte al primo piano con tre camere matrimoniali studio e un altro servizio e poi abbiamo tutta la parte semi interrata con una bella taverna un'autorimessa per due posti auto cantina e accesso diretto poi al giardino eccoci arrivati alla fine della visita volevo ricordare che la villa è inserita in un lotto di circa 1200 metri quadri lasciato a verde all'interno di una proprietà dove c'è un'altra abitazione quindi sono due case insieme con un accesso diretto tipo residence io vi volevo salutare per ulteriori informazioni contattare la tecnocasa di monte cavolo io sono alessandro e vi saluto ancora ciao grazie a tutti grazie a tutti